E buonasera qui dal Dream Lagoon Aqua Park, voglio subito presentarvi il nostro Matador, coordinatore dello staff animazione diretta dall'Alpi Club, il nostro Jack. Mi presento, sono Jack, sono il coordinatore dell'animazione. Mi presento intanto, questo che ammirare, le tavolate tiene, la mela flambé. Mela flambé questa sera dal nostro chef, eccolo qua. Ma adesso salutiamo tutto lo staff animazione, qui pronti per accogliere tutti i nostri innamorati. Ed eccolo qua, un cuore d'amore, un cuore d'amore questa sera. Compressa a piramide, un cuore d'amore. C'è un cuore d'amore.